Ciao ragazzi, oggi vi presento questa idropulitrice da parte dell'azienda c'è Ecotec, il modello è Hydro Boost 3002 Induction Pro Clean, con tutti questi accessori allora vi faccio vedere questa di qua, la spazzola per pulire i pavimenti, qui abbiamo la spazzola per pulire i cerchioni, questa di qua è la spazzola per pulire le ingiunture e qui abbiamo la spazzola rotante per pulire la macchina, poi qui abbiamo anche in dotazione quello, il contenitore per mettere lo shampoo della macchina con quel sapone e qui abbiamo la pistola per il getto d'acqua che si può anche allungare quindi mettere anche il livello di potenza. Quindi tutti questi pezzi sono compresi con questa idropulitrice che adesso vi lascio il link qui sotto per poterla acquistare. Il prossimo video che vi farò pulirò la macchina per vedere in funzione quindi vi mostrerò come funziona. Ringrazio ancora l'azienda Cecotec e god appena! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti